Butterfly, il sopravvissuto, mercoledì alle 21 a Villa Filippina, il 7 settembre. Inizialmente dovevo esserci sin da subito io come una delle interpreti, però per impegni progressi non è stato possibile, ma adesso sono qui con tanta voglia di partecipare anche alla tournée che procederà tutto quanto l'autunno e l'inverno in giro per lo stivale e non solo. Parlare delle stragi di Capaci dando spazio a chi le stragi le ha vissute e poi è stato sotto un profilo dimenticato. Come del resto anche noi Massimo abbiamo vissuto quei momenti tragici di quella Palermo che purtroppo subiva queste stragi e quindi ha lasciato anche un segno forte nella nostra anima. Io racconto i sopravvissuti, coloro che si sono per fortuna salvati, purtroppo in pochi, e che vengono troppo spesso dimenticati. Io li sento che attraverso delle interviste che rilasciano questa loro amarezza e siccome se ne parla poco, anche se tu ricordavi che alcune volte vengono invitati, ho voluto raccontare il punto di vista di queste persone, i rapporti familiari, il trauma che gli ha lasciato quel giorno e che a distanza di 30 anni ancora portano con sé. Che dire? È uno spettacolo da vedere dove ci si diverte, al di là della tematica, che uno può dire sai io voglio ridere, non voglio insomma in questo periodo così difficile vedere cose che possono magari... All'inizio ci si diverte perché raccontiamo la psicologia e il rapporto umano tra gli agenti che pochi conoscono e poi andiamo a toccare dei tasti che fanno riflettere e che fanno memoria di queste persone che hanno sacrificato la loro vita per un cambiamento radicale in questa nostra terra che fatica sempre a rialzarsi e grazie a queste persone le nuove generazioni ci stanno dando una grande mano e Palermo è un'altra cosa. Così giovane in un'interpretazione tanto difficile parlare delle stragi di mafia per un ragazzo che non le ha vissute ma sicuramente ha avuto tante testimonianze da ascoltare. Sì, purtroppo è un fenomeno che noi giovani sentiamo spesso. La scuola ci insegnano e secondo me la cosa migliore per affrontare queste tematiche è proprio viverle. Per esempio io grazie a Francesco Benigno sto facendo questo fantastico spettacolo che ho avuto modo di apprezzare, di vedere e sono veramente contentissimo di partecipare a questo spettacolo perché veramente affronta delle tematiche serie e dopo tutto questo tempo è bello ritornare su queste tematiche con un'ottica diversa perché non è il solito spettacolo che parla delle uccisioni, della mafia è uno spettacolo da una prospettiva diversa, infatti i sopravvissuti. Al Teatro Villa Filippina è il 7 settembre e quindi io veramente ringrazio a Francesco Benigno mi sono inserito in corsa e niente, grazie mille.